Quali sono le competenze e le caratteristiche di Energenius? Energenius è un'azienda che nasce cinque anni fa a Rovereto, ospitata nel distretto della manifattura del Polo Green di Trentino Sviluppo, occupa una quindicina di persone e tratta il tema del monitoraggio e dell'analisi energetica. In definitiva misuriamo i consumi in aziende e in realtà del settore immobiliare per remotizzarli, analizzarli e da essi estrarre valore. Con quali progetti siete presenti a Smau? Siamo presenti a Smau con tre progetti principali. In sintesi il primo legato al mondo della cogenerazione dove abbiamo sviluppato un prodotto che consente di migliorare in maniera importante, parliamo del 20%, il rendimento economico dei cogeneratori attraverso una regolazione intelligente. Il secondo prodotto è dedicato invece al mondo del retail, quindi banche, supermercati ed edifici in generale e lì riusciamo sempre a tenere tutto sotto controllo e a migliorare ulteriormente i consumi energetici. Infine abbiamo una linea di prodotto dedicata invece alla sostenibilità e quindi la raccolta dei consumi sempre in edifici, prettamente per fondi immobiliari, al fine di intraprendere un percorso di sostenibilità e ottenere delle certificazioni green. Grazie per la visione! Grazie per la visione!